Ben trovati con le notizie dal Consiglio regionale. Approvata dall'Aula di Palazzo Pirelli, una mozione della maggioranza con la quale si traccia una roadmap delle attività in vista del referendum d'autonomia previsto per il 22 ottobre prossimo. Un tavolo tecnico tra Lombardia e Veneto per stabilire competenze e risorse relative al pacchetto di materie negoziabili con lo Stato e poi, una volta approvato il referendum, avviare la trattativa insieme al Veneto così da rafforzare l'impatto da parte di due realtà regionali che rappresentano 15 milioni di abitanti che vantano 80 miliardi di residuo fiscale e producono il 35% del PIL dell'intero Paese. La mozione punta a coinvolgere, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, anche le altre regioni che vantano un credito annuale nei confronti dello Stato centrale sotto forma di residuo fiscale. Una iniziativa che mette in risalto il lavoro dei tanti amministratori locali che si spendono bene per la propria comunità è il Premio alla Buona Politica del Consiglio regionale. Gestione oculata delle risorse, servizi ai cittadini più bisognosi, valorizzazione del volontariato e del patrimonio locale. Con il Premio Buona Politica il Consiglio regionale ha voluto riconoscere le best practice dei sindaci di Abbadiela-Ariana, Lecco, Corteno-Golgi, Brescia, Dizzasco, Como e Pagazzano-Bergamo. A premiarli il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, la Vice Presidente Sara Valmaggi e la Consigliere segretario Daniela Maroni. Le candidature dei quattro sindaci, che si aggiungono ai 14 colleghi premiati in questa legislatura, erano state proposte dai consiglieri del territorio Raffaele Straniero, Fabio Fanetti, Francesco Dotti e Silvana Saita. Sono 25 i ragazzi delle scuole superiori lombarde che hanno ricevuto il Premio Stelle d'Europa dalle mani del Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo e del Presidente dell'ACLE Lombardia Luciano Valaguzza. I ragazzi dovevano produrre brevi video in grado di rappresentare la propria visione del futuro dell'Europa. Sono stati premiati quelli che hanno ricevuto il maggior numero di like sulla pagina Facebook di AICLE Lombardia. Ai vincitori è stato consegnato un tablet di ultima generazione. Garda Maggiore, Iseo e Lario sono tante le spiagge lì di Lombardia dove poter prendere il sole senza rinunciare a un tuffo in acque cristalline come fossimo al mare. Da spiagge di sabbia fine come a Lenno in provincia di Como, quelle di Ghiaietta Bianca sul Garda, da località quasi sconosciute a quelle più turistiche come Bellagio, Sirmione e Varenna. Se volete fare un giro in canoa vi consigliamo Porto Portese a facciata sul Golfo di Salò in provincia di Brescia. Se amate i panorami Mozzafiato scegliete Castelveccana in provincia di Varese. Se preferite un bagno al lago circondato dalle montagne vale la pena di andare nella graziosa Fiume Latte in provincia di Lecco. Se vi piacciono i prati vi consigliamo il lido di Ossuccio davanti all'isola Comacina. Questi sono alcuni dei nostri suggerimenti ma se andate su lombardiacotidiano.com troverete un articolo dedicato alle spiagge lombarde. Per questa edizione è tutto e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Grazie per averci seguito.